Chi sono i ghost hunters, i cacciatori di fantasmi che vanno alla ricerca di spiriti, demoni o entità e cercano di stanarli con i loro strumenti? Seri ricercatori sull'ipotesi dell'aldilà, appassionati in cerca di forti emozioni, oppure attori che fingono per stupire e spaventare il pubblico? Ma ancora più importante, il mondo spiritico che essi indagano esiste per davvero? La morte, lo sappiamo, è la livella da cui non possiamo fuggire, è l'ultima meta alla fine del viaggio, ma in molti sostengono che, invece, sia un passaggio verso l'altrove sconosciuto e che quell'altrove, a volte, è visibile nella nostra realtà, di fronte agli occhi di tutti, con i suoi abitanti, pronti a interagire nel bene o nel male con noi. E se così fosse, davvero, abbiamo l'opportunità di interagirvi grazie all'aiuto dei ghost hunter? E' questo il mistero su cui indagheremo oggi insieme a strane storie. Grazie a tutti. Quando il primo essere vivente fu creato, io c'ero, in attesa. Quando l'ultimo essere vivente morirà, il mio incarico sarà giunto a termine. Spegnerò le luci e chiuderò a chiave la porta dell'universo prima di andarmene. E' Death, morte, uno degli eterni, a pronunciare queste parole nel capolavoro spartiacque del fumetto mondiale The Sandman, di Neil Gaiman. Death è uno dei personaggi più iconici dell'opera di Gaiman e, l'autore, è stato capace di ribaltare l'immaginario collettivo che vuole la morte come macabro e spaventoso essere armato di falce o lugubre scheletro o inquietante creatura tenebrosa, dandogli invece le sembianze di una ragazzina allegra, sorridente dall'incarnato palido che contrasta i suoi vestiti punk-goth, ma soprattutto curiosa del mondo e degli esseri umani, desiderosa di comprendere l'astio che l'umanità prova nei suoi confronti, a tal punto da decidere di vivere, una volta ogni secolo, come una mortale. E' così, vivendo empaticamente in mezzo a noi, che, morte, conosce la nostra paura, la nostra incapacità di capire il non essere più, la nostra solitudine e la nostra forza, diventando una figura dolce e rassicurante, rispettosa e affettuosa, un'amica con cui volentieri si affronta l'ultimo passo, il più difficile nell'ignoto. La Death di Neil Gaiman, la cui particolare caratterizzazione grafica si deve a Mike Dringenberg, è connessa all'umanità e alla sua evoluzione sociale e la sua potenza figurativa sta proprio qui. Alla fine di tutto non c'è il tristo mietitore, ma un essere eterno, amichevole, gentile, al passo con i tempi, soprattutto comprensivo. La comprensione della morte nei confronti di creature che la morte non riescono a comprendere. «Non sono né benedetta né misericordiosa», dice in una delle storie, «sono solo me stessa, ho un compito da svolgere e lo svolgo». Ascolta, anche ora, mentre parliamo, io devo pensare a vecchi e giovani, innocenti e colpevoli, a chi muore solo, a chi in compagnia. Sono sulle auto, nelle barche, sugli aerei, negli ospedali, nei boschi, nei mattatoi. Per qualcuno la morte è un sollievo, per altri un abominio, una cosa terribile. Ma alla fine io arrivo per tutti. Ecco, lei arriva per tutti. E se Neil Gaiman ci regala la speranza, in senso poetico e fantastico naturalmente, che quell'arrivo sia quello di un'amica affettuosa, l'annosa e difficile questione che la dipartita di un essere umano porta con sé è una sola. Cosa succede a coloro che restano? Perdere una persona cara è un avvenimento che contraddistingue la vita di ognuno di noi, uno di quei fatti inalterabili, che ci insegna una volta di più la caducità dell'esistenza. Ma se qualcuno riesce ad accettarlo e ad andare avanti, pur col ricordo o con il doloroso vuoto che certe mancanze lasciano, qualcun altro non ce la fa. E allora capita che ci si aggrappi a qualcosa per non cadere. Talvolta la fede religiosa in un al di là è sufficiente, altre volte c'è chi sente il bisogno di avere una dimostrazione più concreta. Ed ecco allora comparire qualcuno che dichiara di poterlo mettere in contatto con chi non c'è più. Così, da Allan Kardec, il padre dello spiritualismo, ai channelers, i medium dei giorni nostri, dallo spiritismo alla fenomenologia medianica, si arriva a un movimento che oggi spopola, grazie a internet, il ghost hunting. I cacciatori di fantasmi che si muovono in luoghi storici, misteriosi, maledetti, tra cripte, foreste, edifici, abbandonati, ovunque le loro ricerche indichino la presenza di fantasmi o di qualcosa di ben peggiore. Ma in tutto quello che mostrano e raccontano che cosa c'è di reale? È possibile entrare in un mondo immateriale con strumenti alla portata di tutti? Bentrovati, naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a questo nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità, enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, imparare a vostra volta a indagare misteri, collaborare con me, aiutandomi così a realizzare contenuti sempre migliori, più avanti vi spiegherò come fare. Adesso è il momento di scendere in campo armati di coraggio. Si va a caccia di fantasmi. In Francia, il 18 aprile 1857, vede la luce della stampa un libro molto particolare, Le Livre des Esprits, il libro degli spiriti, scritto da Allan Kardec. È un testo in cui vengono riportate le ricerche e le scoperte relative al mondo paranormale da parte dell'autore, con un lungo elenco di domande e risposte, più di mille, su spiriti e affini. Ma chi è Allan Kardec e perché questo libro in particolare è diventato il testo chiave della dottrina che prenderà il nome di spiritualismo? Kardec è lo pseudonimo di Hippolyte-Leon-Denisar Rivaly, pedagogista, filosofo francese di inizio 1800, professore tra i collaboratori più famosi di Johann Heinrich Pestalozzi, scrittore, pedagogista e riformatore del sistema scolastico di fama mondiale. Rivail inizia a interessarsi alla questione spiritica nel 1854, quando i salotti europei cominciano ad animarsi di pratiche medianiche e per i due anni successivi trascrive in «Le mie predizioni riguardanti lo spiritismo?», testimonianze, riflessioni e le risposte ottenute interrogando gli spiriti. Secondo Rivaly o Kardec, la spiegazione in quel momento, senza codifica o struttura, non poteva essere il mesmerismo, un magnetismo animale, teoria e pratica pseudoscientifica inventato, secondo lui scoperta dal medico tedesco Franz Anton Mesmer. Ricordate, ne abbiamo parlato in un altro video. Mensì qualcos'altro, qualcosa di molto più profondo. La teoria di Mesmer si basava, infatti, sulla presenza di un fluido che scorre e si sprigiona dall'organismo e che, a seconda del soggetto operante, coadiuvato o meno da magneti, era in grado di curare malattie, a loro volta causate dalla carenza dello stesso fluido. Parole povere. Ci sarebbe una forza che permea l'universo collegando ogni cosa. Esseri umani, pianeti, tutto. E grazie a tecniche precise, si può incanalare questa energia, fluido, forza, chiamatela come preferite, canalizzandola in altre persone, riequilibrandole, guarindole dalle malattie. Manca solo utilizzarla per spostare oggetti e soffocare le persone per mancanza di fede, e parrebbe Star Wars. Trovo insopportabile la tua mancanza di fede. Ma no, non siamo in una galassia lontana, bensì nell'Europa del Settecento. E tuttavia Kardec si convince, tramite esperienze empiriche che lui definisce dirette, dopo averle esaminate pure incontrovertibili, che c'è qualcos'altro. Usando uno pseudonimo per dividere il suo lavoro da educatore e pedagogista da quello inerente al mondo spiritico, si inoltre nell'ambiente medianico. Assiste a sedute spiritiche, ne interroga gli eteri protagonisti, e da questi spiriti apprende una nuova realtà delle cose che provvede ad appuntarsi e poi a riordinare. Allan Kardec è il codificatore dello spiritismo. Ed ecco perché il libro degli spiriti è il testo chiave del movimento. Con i successivi libri, il libro dei Medium, il Vangelo secondo gli spiriti, che cos'è lo spiritismo e tutti gli altri, Kardec influenza non solo parapsicologi e Medium, ma anche medici, astronomi, psicologi, in quella che è stata chiamata l'epoca d'oro dello spiritismo come dottrina filosofica, a cui si interessavano anche scienziati, filosofi. A cose nuove, parole nuove, scrive Kardec nel libro degli spiriti. Così richiede la chiarezza del linguaggio, per evitare la confusione che nascerebbe dall'attribuire diversi significati a una stessa parola. Noi dunque, continua sempre lui, diremo che la dottrina spiritica, cioè lo spiritismo, ha come principio la credenza nelle relazioni tra il mondo materiale e il mondo invisibile, cioè tra gli uomini e gli spiriti, e chiameremo spiritisti coloro che accettano questa dottrina. Il libro degli spiriti contiene la dottrina spiritica, la quale è in intima relazione con la dottrina spiritualista, di cui è una conferma e una dimostrazione. È per questo che al suo titolo sono state premesse le parole filosofia spiritualista. Chiusa parentesi. Se è vero, tuttavia, che Allan Kardec è il principale divulgatore dello spiritismo, al quale si approccia con metodo, bisogna ammetterlo, ma le cui conclusioni sono largamente confutabili con gli approcci investigativi moderni, è altrettanto vero che già circa dieci anni prima, in un'altra parte del mondo, si assisteva all'incredibile ascesa delle pratiche medianiche con tre sorelle, Maggie, Kate e Leah, le sorelle Fox. È il 1848 e le due sorelline più piccole della famiglia Fox, Maggie e Kate, risiedono a Hydesville, New York, con i genitori, in quella che secondo alcuni sarebbe stata una casa stregata. Qui le ragazze, Kate in primis, iniziano ad avere contatti con una misteriosa entità, o meglio uno spirito, Mr. Splitfoot, come lo soprannominano loro, cioè Piede Biforcuto, un nomignolo utilizzato per indicare il demonio, ma che poi si identificherà come tale Charles Rosna, morto ammazzato in quel piccolo cottage e sepolto sottoterra. Alcune ricerche però non riescono a trovare traccia di nessun Charles Rosna, vivo o morto, e non esistono testimonianze a riguardo di una simile persona. Ma non importa. Le apparenti attività paranormali aumentano e sebbene i genitori decidano di separare le sorelle per prevenire problemi, le due continuano ad avere episodi che inducono i genitori a un'unica conclusione. Kate e Maggie sono due medium. Il modo in cui lo spirito si manifesta è davvero singolare. Non c'è nessuna voce disincarnata che parla, scritte che compaiono sulle lavagnette o fantasmi biancastri che si aggirano per la stanza. Queste sono tutte dimostrazioni che arriveranno in seguito nella storia dello spiritismo. In quel momento si tratta solo di colpi o raps, come si chiamano in gergo, schiocchi o rintocchi che suonano sulle superfici di legno del cottage della famiglia Fox. Funziona così. Le bambine o gli adulti fanno una domanda ad altavoce e poi decidono un codice. Uno schiocco per dire sì, due per dire no. Sei una persona viva? No. Sei uno spirito? Uno schiocco. Il tipo di domande che si può fare, avendo a disposizione solo due risposte, però è ovviamente molto limitato. E così si aggiunge una particolarità. Fatta una domanda più specifica, qualcuno ripeterà ad altavoce l'alfabeto dalla A alla Z e uno schiocco farà capire qual è la lettera da prendere in considerazione per formare la parola. Ecco, è chiaro che con questo sistema, per avere anche una semplice risposta di una parola o due, è necessario impiegare un bel po' di tempo. Come ti chiami? A, B, C, D, E, F, G, G, ok, A, B, C e così via. Ecco, davvero improbabile, però ricordiamoci che all'epoca non c'era televisione, non c'era internet, non c'era niente. Il tempo si passava volentieri anche così. E questo rappresenta il primo squarcio nel velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti. E riuscire a comunicare con uno spirito è qualcosa di incredibilmente emozionante, anche se richiede mezz'ora per formare una parola. Il fatto, però, è che il fantasma non parla con tutti, ma si manifesta solo in presenza delle due sorelle. Se un familiare fa domande nella casa quando le bambine non ci sono, non succede assolutamente niente. La voce di quello che capita in casa dei Fox comunque inizia a diffondersi, fondamentalmente a causa della madre che, seguendo la moda del tempo, più volte aveva partecipato infruttuosamente ad alcune sedute spiritiche. Diverse persone iniziano a presentarsi a casa dei Fox per chiedere se le bambine possono provare a contattare anche altri spiriti, oltre a quello di Charles Rosner, spiriti di loro familiari, per esempio. Le sorelle ci provano e scoprono che, sì, funziona. E così sempre più persone si presentano dai Fox e per il disturbo, ovviamente, lasciano sempre qualcosa, del cibo, dei vestiti, anche del denaro. È in questo momento che interviene la terza sorella, Lia, più che altro come manager. E da qui in avanti le Fox diventano sempre più famose, arrivando a tenere non solo sedute spiritiche private, ma anche pubbliche, con un notevole aumento di guadagni sia in denaro che in fama, in un mondo che stava scoprendo la dottrina spiritica e gli spiritisti aumentavano. Avremo sicuramente modo di approfondire in altre occasioni la storia delle sorelle Fox, lo sviluppo del movimento dello spiritismo, argomento a cui, lo sapete, ho dedicato il mio primo libro in assoluto, Viaggio tra gli spiriti, uscito nel 1995. E tuttavia, per l'argomento ghost hunter, di questo breve excursus storico, ci occorre solo qualche altro cenno. Sempre gestite e consigliate da Lia, Maggie e Kate iniziano a selezionare la clientela, preferendo sempre di più esibirsi solamente per personalità importante o di ceto sociale elevato. Ben presto, però, la vita delle Fox, vista anche la crescente fame dello spiritismo, si frattura. Detrattori, accuse, indagini, le strade delle tre si separano tra matrimoni, lutti e un pesante alcolismo che contribuisce a minare i passi delle due minori. Alla fine, il 21 ottobre 1888, ospite all'Accademia musicale a New York, Maggie Fox racconta dettagliatamente di come l'inizio di tutta quella storia fu in realtà uno scherzo, che lei e Kate fecero alla madre, ritenuta paurosa e superstiziosa. I colpi li realizzavano in un modo molto semplice, ma ingegnoso. Nascoste dalle grandi gonne, si sfilavano una scarpa dal piede e facevano schioccare le dita dei piedi sul legno, producendo dei rumori che poi rimbombavano o sembravano provenire da ogni dove. Maggie si solleva la gonna e mostra a tutti come funziona il semplice trucco. La platea è attonita. Lo scherzo, spiega la donna, avrebbe dovuto concludersi il giorno dopo, il primo aprile 1848, perché effettivamente si era trattato di un pesce d'aprile. Ma quando la madre aveva chiamato i vicini per farli assistere alle manifestazioni, loro temettero le conseguenze della verità e proseguirono nell'inganno. Un inganno conosciuto solo dall'altra sorella Leah, che aveva approfittato della situazione per guadagnare alle spalle delle due presunte medium. La storia delle sorelle Fox però non finisce qui e non finisce bene. Ma quello che ci occorre è inquadrare bene quando e come vennero sdoganate certe idee, certe filosofie, un contesto, insomma. Perché c'è sempre un punto di partenza. E in questa storia, tra inganni, mistificazioni, dottrine e risultate credibili solo per mancanza di strumenti intellettuali e materiali d'indagine, l'inizio è piuttosto controverso. Alcuni obiettano, scrive ancora Allan Kardec, che in questi fenomeni spesso si sono scoperti dei trucchi. In primo luogo domanderemo a costoro se siano proprio sicuri di quanto affermano, o se forse non abbiano scambiato per trucco qualunque effetto di cui non sapevano darsi ragione. Pressapoco come quel villano che prendeva un dottissimo fisico in atto di fare le sue esperienze per un abile giocoliere. Ma poi, anche ammesso che realmente qualche volta ci sia dell'inganno, sarebbe questo un motivo per negare tutti i fatti? Bisogna dunque rinnegare la fisica perché alcuni prestigiatori abusarono del suo nome? D'altra parte, occorre anche tenere conto del carattere delle persone e dell'interesse che potrebbero avere nella frode. Sarebbe dunque uno scherzo? Si capisce che c'è sempre chi vuole per qualche tempo divertirsi, ma una commedia prolungata di continuo riuscirebbe stucchevole tanto al raggiratore che al raggirato. Del resto, un inganno che potesse diffondersi da un capo all'altro del globo e tra le persone più savie, più autorevoli e più illuminate, sarebbe perlomeno cosa altrettanto straordinaria quanto lo stesso fenomeno del quale trattiamo. Diciamo solo che Allan Kardec non viveva nella straordinaria, o dovremmo dire fantasmagorica, era di internet. Sei incatenato, disse Scrooge, tremando. Dimmi perché. Indosso le catene che ho forgiato in vita, replicò il fantasma. Le ho forgiate anello per anello, metro per metro. Mi sono avvolto in catene di mia spontanea volontà e di mia spontanea volontà continuo a portarle. Canto di Natale, una delle opere più famose di Charles Dickens è certamente una delle migliori critiche alla società inglese che lo scrittore britannico abbia composto. Il breve racconto è del 1843. In Italia arriva qualche anno più tardi, nel 1852, ma la storia narrata da Dickens è importante non solo per la sua valenza letteraria e sociale, per la sua commovente bellezza e per l'interessante utilizzo del romanzo gotico come base per parlare di tutt'altro. Bensì anche perché l'argomento usato come metafora terrà realmente banco nei salotti di Cambridge. Al Trinity College, nel 1855, si gettano infatti le fondamenta di quella che diventerà la più antica organizzazione di ricerca e indagine sul paranormale, fondata ufficialmente nel 1862, il Ghost Club. Ancora oggi attivo, il club comprendeva personalità come lo stesso Charles Dickens, il ricercatore psichico Harry Price, legato a uno dei casi di poltergeist più famosi e documentati al mondo, quello della canonica di Borley, a cui dedicheremo più avanti un episodio di strane storie. Donald Campbell, Peter Underwood, Maurice Gross, l'investigatore del paranormale che seguì il caso del poltergeist di Enfield, ve lo ricordate? Anche di quello abbiamo parlato in un altro episodio. Il diplomatico Sir Shane Leslie, il mitico attore Peter Cushing, colonna portante della Hammer, interprete eccezionale di pellicole storiche e amatissime e per me l'incarnazione vivente di Sherlock Holmes. Composto generalmente da convinti sostenitori delle tesi paranormali, il Ghost Club dal 1882 si vide costretto a dividere la scena con la ben più strutturata Society for Psychical Research, la SPR, presieduta dal filosofo di Cambridge Henry Sedgwick con la moglie Eleanor e animata, tra gli altri, dal fisico William Crookes, dal fisiologo Charles Robert Richer, futuro premio Nobel per la medicina, da William James, psicologo, filosofo, oltre che fratello dello scrittore Henry James, come anche da personalità più controverse, come per esempio il medium William Stanton Moses, il ricercatore psichico, mistico e avvocato Charles Carlton Massey. A differenza del Ghost Club, la SPR si pone fin dall'inizio come più scientifica nell'impostazione della sua ricerca, sebbene il nome di diversi membri si possa trovare sia nell'uno che nell'altro gruppo. La storia del Ghost Club, fra chiusure e ripartenze, si muove tra credenza e scetticismo a seconda delle personalità che nel corso della sua storia ne hanno movimentato le gesta. Ma è interessante notare come, insieme alla SPR, abbia portato la ricerca pseudoscientifica a evolversi costantemente in un cammino costellato di storie, resoconti, esperimenti, investigazioni e qualche punto oscuro. E non intendo tenebroso o inquietante, intendo proprio non chiaro, senza spiegazione, passato sotto silenzio. Forse non precisamente sincero. Ecco, diciamo così. Dopotutto parliamo di un mondo che funziona con leggi proprie, un mondo dove rumori e scricchiolii non sono assestamenti ma passi spettrali, dove ogni luogo abbandonato è infestato dai fantasmi o dai demoni e dove attrezzature nate per scopi differenti sono riadattate alla ricerca paranormale, senza averne però alcuna capacità effettiva. Ma poi, fondamentalmente, di che capacità stiamo parlando e come si è riusciti a capire che funziona perfettamente per qualcosa di cui nessuno sa nulla con certezza. La caccia ai fantasmi è nata dall'amore per il fallimento tecnologico, scrive l'autore americano Colin Dickey in un articolo su The Atlantic. Nel 1861 William Mumler, un gioielliere incisore, stava studiando il nuovo mestiere della fotografia quando la figura oscura di una giovane ragazza apparve su una lastra che stava sviluppando. Come descrive Christa Clutier in The Perfect Medium, Photography and the Occult, Mumler sapeva che si trattava di un errore, una conseguenza del riutilizzo accidentale di una lastra che non era stata sufficientemente strofinata dalla sua precedente esposizione. Ma poi mostrò il curioso risultato a un suo amico spiritista. Non essendo io stesso in quel momento molto propenso alla credenza spirituale ed essendo di indole gioviale sempre pronto per uno scherzo, ammise in seguito Mumler, conclusi di divertirmi un po', come pensavo, a sue spese. Disse così allo spiritualista che l'immagine era autentica e che nessun altro era nei paraggi quando aveva scattato la fotografia. Il suo amico prese lo scherzo fin troppo sul serio e in breve tempo le pubblicazioni spiritiste avevano ristampato l'errore di Mumler come prova decisiva della vita dopo la morte. Il fotografo ovviamente non si lascia scappare l'occasione e si mette a offrire foto con gli spiriti, dicendo di aver scoperto un fenomeno meraviglioso e che occorre indagarlo. Dieci dollari. E ognuno potrà avere la sua foto spettrale con piccola clausola annessa. Non garantisco la materializzazione di un fantasma ogni volta. Insomma, l'errore di una nuova tecnologia diventa il successo di una vecchia credenza. E a ogni nuova scoperta, con conseguente malfunzionamento, accade la stessa identica cosa. Nel 1953, a Long Island, il volto spettrale di una donna appare in una tv, mentre dei bambini guardano un programma. Un malfunzionamento. Il viso non si è dissipato, ma la faccenda viene etichettata subito come paranormale. Sul finire degli anni 50, il regista documentaristico e pittore svedese Fredrik Jurgensson si accorge che sul nastro, dove è appena registrato il canto di alcuni uccelli, sono presenti delle voci umane. Più precisamente si convince che si tratta di quelle del padre e della moglie defunti. Inizia a credere che esista la possibilità di ascoltare le voci dei morti e, con la sua ricerca, sviluppa una tecnica che pubblicherà poi nel 1967 nel libro Radio Contact with the Dead . Il suo studio verrà poi proseguito e, ulteriormente sviluppato, da Konstantin Raudiv. Insieme, i due sono considerati i pionieri della psicofonia o metafonia, cioè il cosiddetto EVP, Electronic Voices Phenomena, il fenomeno delle voci elettroniche, di origine apparentemente non umana, captate attraverso registrazioni o ricezioni. Si tratta di presunte voci, il più delle volte incomprensibili, che vengono ricondotte a fantasmi, demoni o altro, che oggi spuntano dalla tecnologia riadattata dei ghost hunters, come la ghost box. Ho già dedicato un intero video a questo tipo di fenomeno, quindi vi rimando per approfondire l'argomento. Ci torneremo ancora tra poco. Questo per dire, però, che sono secoli che l'essere umano sviluppa certezze sulla base di ciò che ogni produttore di elettronica o di consumo tende a eliminare, migliorando i propri prodotti, cioè i bug. Gli errori di cellulari, strumenti radio, macchine fotografiche, prima pellicola, ora digitali, videocamere, fotocamere, come gli errori dello strumento per eccellenza del cacciatore di fantasmi. Non lo zaino protonico dei Ghostbusters, ma il famoso Safe Range EMF, più conosciuto come K2. Tutti i bug generati da questi strumenti si trasformano in una prova lampante, cristallina, inoppugnabile, in barba a chi non ci crede. Scettici? Beccatevi questa. Peccato che non sia proprio così. Anche se bisogna dire che, a tempi moderni, si risponde con strumenti modernissimi. E i fan dei reality show paranormali o dei gruppi che spopolano su YouTube lo sanno bene, visto il gergo tecnico e gli altri straordinari strumenti che donano ai cacciatori di fantasmi una credibilità indebita. In uno studio pubblicato su Science Communication e diretto dal professor Paul Brewer dell'Università del Delaware è stato appurato come la stessa identica storia, presentata o scritta in modo leggermente differente, può risultare più o meno credibile. Brewer ha condotto un esperimento chiedendo ai partecipanti di leggere una delle quattro versioni di un articolo di giornale che trattava di investigatori del paranormale e successivamente di compilare un questionario. Una di queste versioni descriveva come scientifico l'approccio investigativo, con l'utilizzo di gergo e vari strumenti descritti da Brewer come orpelli della scienza. Naturalmente si citano strumenti come l'IMF, che abbiamo visto poco fa. Il risultato è stato molto interessante e anche un po' preoccupante, perché il gruppo che ha letto la versione scientifica era molto più propenso a definire gli investigatori credibili e, appunto, scientifici, oltre che a credere nel paranormale. Potrebbero guardare questo, ha commentato Brewer, e dire bene tutto ciò che serve, spargere alcuni acronimi, agitare cose dall'aspetto interessante che mettono tanti segnalini acustici e improvvisamente le persone crederanno nei fantasmi e nelle case infestate. Tuttavia, lo studio ha dimostrato anche un'altra cosa. La seconda versione dell'articolo, in tutto e per tutto simile a quella scientifica, presentava un'aggiunta, cioè la citazione di un professore che portava prove che valutavano criticamente l'esperienza degli investigatori. Ecco, indovinate come questo secondo gruppo ha compilato il questionario. Ebbene sì, la credibilità degli esperti del paranormale ora veniva valutata in modo nettamente inferiore rispetto all'altro gruppo. Da un certo punto di vista può essere più confortante, ma indubbiamente è la dimostrazione di un potere inquietante e non c'entra nulla con il paranormale. Quello che i media danno, dice Brewer, i media possono togliere. E questa affermazione ci traghetta direttamente nella realtà del ghost hunting, una realtà che da inizio anni 2000, una ventina d'anni fa, ha trovato nella televisione e nei social una nuova forma e una nuova sostanza. Avrà trovato anche nuovi risultati? Beh, è quello che vedremo insieme la settimana prossima, quando continueremo questo viaggio nel moderno ghost hunting e andremo a vedere che cosa c'è di realmente affidabile oppure no. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social gratuitamente e lo fanno sbarcando sulla mia Isola del Mistero, la mia pagina Patreon. Ecco, oggi anche voi potete sbarcare sull'isola, aiutandoci a raggiungere nuovi traguardi e a mettere in campo nuovi progetti. Guardate che basta davvero poco, l'equivalente di un caffè, di una pizza. Facendolo avrete anche accesso a moltissimi contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, tecniche di indagine sui misteri, miei antichi spezzoni televisivi che commentiamo insieme, trucchi svelati, documentari, risponderò alle vostre domande e molto molto altro. Potrete inoltre entrare in una chat segreta dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Ecco, potete leggere i nomi di una buona parte di loro nella sigla di questo episodio e magari presto ci potrebbe essere anche il vostro. Dunque, venite su Patreon. Vi aspettiamo. Per finire vi ricordo anche il mio libro, geniale, che continua a raccogliere tantissimi riconoscimenti e apprezzamenti da parte dei lettori. Se ancora non l'avete letto, vi assicuro che vi aspetta un viaggio veramente sorprendente. Me lo direte voi quando l'avrete letto, se non è così. Per ora noi ci fermiamo qui e ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13.30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. Beh, ma io ne conosco di migliori, eh? Ma di che cosa? Ma di freddore. Lo sa come fanno quattro elefanti a entrare in una mini? No, ma cosa c'entra? Lo sa o no? No. Ma è facile. Due davanti e due di dietro. Che ridere, eh? Ah, davvero? E allora lo sa come si fa a sapere se in una casa ci sono quattro elefanti? Ancora? No, non lo so. Ma è semplice. Si guarda se c'è parcheggiata fuori la mini. Se vuole, le faccio sapere come ci si libera dai seccatori molesti. Come dite, mi chiamano scusi. Come dite, mi chiamano scusi.